Questo è un angolo meraviglioso di Milano, un angolo della galleria del palazzo progettato da Giuseppe Mengoni alla fine del secolo scorso. È un palazzo storico, molto famoso e molto amato dai milanesi, proprio di fronte al Duomo. Questo è un luogo storico di Autogrill, perché Autogrill è qui da molti anni, per cui qui è stato un grande lavoro per pulire, per togliere tutto quello che non era necessario, per lasciare l'aria più libera e più aperta possibile, per dare luce agli ambienti. Il cuore di tutto quanto è questo cavedio, questo corpo scale che è proprio il centro della risalita sui vari piani. Ad ogni piano c'è un'offerta gastronomica diversa, il cosiddetto mercato del Duomo, gli altri ristoranti e tutta l'offerta di Autogrill. Questo cavedio è un vecchio cavedio storico che è stato chiuso molti anni fa e che adesso è stato possibile riqualificare nella sua versione più originale. Più originale perché abbiamo ricostruito le porte e le vetrate come erano nei disegni del Mengoni, con le proporzioni e la grafica che il Mengoni avevo voluto dare a queste aperture. Per cui, per certi versi, non è mai stato così autentico come adesso. Questo albero di oliva è proprio un monumento di cultura fatta in bronzo. L'abbiamo proprio scolpito come si faceva 500 anni fa in epoca rinascimentale. Lo abbiamo poi fuso in bronzo, lo abbiamo portato qui e appeso, appeso perché il senso della leggerezza, nel senso di vedere la natura ovunque, è proprio il messaggio che vogliamo dare e che l'uomo di oggi pretende.